Davide Caparini, la segreteria della Presidenza della Camera dei Deputati, ha effettuato dei tagli. Di quali tagli stiamo parlando? Sì, abbiamo tagliato prima di tutto gli alloggi di tutti, nel senso che nessuno potrà più disporre di alloggi pubblici e questa è una cosa buona e giusta. Dopodiché anche l'indenità di carica che sono state quasi dimezzate, comprendendo anche i tagli fatti l'anno scorso, e inoltre sono state tolte tutti i benefici, quali il rimborso di spese telefoniche, di viaggio, insomma un cospicuo e massiccio taglio dei costi così come deve essere.